Perché in questa zona del mondo ci sono i pirati? E come ci sono arrivati qua? Oggi vi racconterò questa storia. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito il meccanismo che permette l'apertura e la chiusura della bocca del teschio per entrare nella caverna segreta dei pirati. E oggi, come vi ho detto nell'intro, andremo a scoprire come mai i pirati hanno deciso di stabilirsi in questa zona. Prima di iniziare a raccontarvi questa storia vi dico che purtroppo i lama sono desponati. Pertanto venditore e lama sono uniti da un filo invisibile e quindi non è possibile catturarli. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Nei commenti dello scorso episodio molte persone hanno dato dei suggerimenti per poter aprire e chiudere in modo automatico al nostro passaggio la bocca del teschio. Alcuni hanno suggerito di mettere un filo ad inciampo che passi da questa parte all'altra parte della baia. La cosa è assolutamente fattibile. Il problema è che ogni tanto qui sponano degli squid. Gli squid spesso stanno sul pelo dell'acqua e quando si rigirano i tentacoli vanno a toccare il filo ad inciampo. E quindi facendo aprire in modo totalmente casuale la bocca del teschio. Tra l'altro se la cosa viene fatta troppo velocemente può anche essere che si inceppi il meccanismo. Un secondo metodo che anch'io stavo valutando è quello di utilizzare il pesce palla che si gonfia quando il giocatore si avvicina a lui perché si spaventa e quindi può far partire un segnale di redstone. C'è però un problema. Il pufferfish deve essere distante massimo un blocco dal giocatore quindi non possiamo andarlo a posizionare sott'acqua perché ci sarebbe lo strato d'acqua e poi un altro blocco per tenerlo fermo nella sua posizione. Un'altra cosa che ho notato in questi ultimi aggiornamenti è che il pufferfish non rimane fermo sul blocco dove lo andiamo a posizionare. Quindi ci sono diversi inconvenienti e si dovranno trovare altri metodi per far funzionare questo meccanismo. Pertanto ho pensato che al momento lasciamo perdere questa cosa e ci occupiamo di altro e la riprenderemo più avanti. Dovete sapere che i pirati non hanno abitato sempre questa zona anzi sono arrivati qui un pochino per caso. Stavano solcando i mari a largo alla ricerca di un antico tesoro e le loro mappe puntavano proprio in questa zona. Avvicinandosi però alla terra sono stati sorpresi da una fortissima tempesta che ha sballottato la loro nave a destra e a sinistra fino a farla schiantare sugli scogli e arrivare proprio in questa zona. Dato che in qualche modo dovevano sopravvivere hanno deciso di sfruttare il relitto oramai irrecuperabile della loro nave per costruirci una casa. E dato che stavano ancora cercando il tesoro hanno stabilito qui anche il loro covo segreto. Allora qui ho spianato tutta quanta la zona e ha messo la sabbia. Tra l'altro ho trovato una caverna qui che sembra essere inesplorata. Non andremo a vederla oggi ma sicuramente in uno dei prossimi episodi entreremo. E vorrei anche modificare un attimino l'ingresso per renderlo più piratesco. Il relitto lo costruiremo qua e sarà uguale a quelli che si trovano normalmente nel mondo dopo l'arrivo della 1.13. Questo perché voglio concentrarmi soprattutto sulla decorazione di questo relitto, sull'adattamento a casa e anche perché il modello mi piace davvero un sacco. Allora la nave la costruiremo utilizzando il legno scuro e quello di abete che secondo me si accompagnano perfettamente per questa costruzione. Questo blocco indica il punto dove andremo a fare il timone e quindi dobbiamo iniziare a costruire seguendo il modello che conosciamo di Minecraft. Quindi andiamo a togliere questi due e andiamo a mettere questo legno scuro e anche qua dobbiamo scavare. Sarà un lavoro davvero molto molto bello che farò però off camera perché il modello della nave lo conoscete quindi è inutile che vi faccia vedere come si può costruire. Basta che andate a vedere un relitto e lo trovate. Ok ragazzi ho costruito più o meno il relitto che c'è anche in vanilla. Come vedete qua c'è la stanza sotto che andremo ovviamente ad arredare e qua sopra c'è l'altra stanza quella diciamo del capitano che anche qui andremo ad arredare. Qua sopra è ancora tutto aperto perché non ho ancora finito la costruzione però ragazzi direi che più o meno ci siamo. Il relitto come vedete è un pochino immerso nella sabbia ma c'è una parte che ancora spunta fuori dove c'è il timone. Allora iniziamo a fare innanzitutto la scala per poter entrare all'interno di questo relitto o meglio per salire sopra. Quindi direi di fare una specie di passerella. Io direi di andare a togliere questi blocchi qua e mettere invece queste scale qua e poi fare una passerella utilizzando questi mezzi blocchi qua. Scendiamo di un blocco ok anche qua ci conviene scendere di un blocco quindi facciamo così. Qua facciamo una passerella un pochino più grande e qua facciamo la scala così. Perfetto in questa maniera abbiamo modo di salire agevolmente chiaramente questa è una cosa che i pirati hanno costruito dopo recuperando tutto quanto il legno che si è distrutto qua sulla spiaggia hanno cercato di ricostruire un pochino questa nave per poterla sfruttare. Facciamo qua una cosa del tipo che ne mettiamo due qua e altre due le mettiamo qua e qua e qua sopra e poi le chiudiamo così facciamo una specie di corrimano per non far cadere le persone che passano di qua. Poi visto che abbiamo già qua le fence e abbiamo anche già fatto le lanterne possiamo metterne una qua sopra per illuminare. E già la cosa sta prendendo forma piano piano sta prendendo forma piano piano allora facciamoci questa porta qua e la andiamo a mettere qua così tak tak perfetto abbiamo la cabina del capitano qui magari metteremo non so se il letto conviene metterlo sopra o sotto poi ci penso. Poi qua potremmo proseguire per esempio con un po' di pavimento qua sopra direi così almeno poi qua possiamo utilizzare anche questi mezzi blocchi qua per chiudere un attimino qua dietro poi vediamo che cosa mettere. Quindi secondo me qua ci vuole il dark oak planks allora facciamo così tak perfetto e qua sopra possiamo invece continuare con questo ok quindi chiudiamo un attimino lì qua possiamo mettere questo qua e anche qua e poi fare per esempio un po' di queste fence così. In modo da far capire che è stato costruito qualcosa per diciamo sistemare un attimino la situazione che era abbastanza drammatica e poveri pirati. Le trapdoor sono praticamente delle assi perfette perfette per chiudere queste parti così ok facciamone anche qua altre due quindi vado a mettere sopra queste così e un'altra qua perfetto. Ok ragazzi vado a dormire ma già così mi comincia a piacere allora qua invece metterei un altro di questi poi salirei sopra e se ho un'altra fence aia cosa che ho preso? Ah ecco infatti ma porca miseria ma guarda escono dalla caverna non ho qua la spada ma pensa a te ma guardati ecco adesso non dovresti e tu non vieni più su però di qua rimani lì ma pensa a te infatti mi sembrava di essere stato colpito ma non ho capito perché ho il volume un po' basso e questi sono usciti dalla caverna ragazzi escono dalle pareti. Allora qua sopra ho pensato di chiudere bene o male con tutti i blocchi interi così da fare un piano un pochino più grande poi penseremo a cosa mettere qua sopra anche qua potremmo chiudere così in modo da avere un tetto di questa povera stanza che sinceramente così ci piove dentro. Ok allora qua invece possiamo fare delle scale magari con questo dark oak qua e fare una scala qui che ci porta dove c'è la porta che è anche un gioco di parole. Qua possiamo andare probabilmente a chiudere con questi chiari sì questi qua ok ci sta e mettere la porta che abbiamo già preparato poi qua possiamo fare una scala quindi facciamo non qua qua e qua così perfetto. E qua possiamo magari andare a restringere un pochino la nostra stanza perché così mi sembra anche forse troppo grande quindi facciamo non questi qua però volevo utilizzare quelli giusti. Non riesco a distinguerli bene perché c'è un sacco di luce in questa stanza in questo momento quindi faccio fatica a distinguerli e qua dall'altra parte la stessa cosa farei. E poi sopra metterei invece quelli di spruce quindi questi qua ok e andiamo a metterli qua così facciamo il pavimento qui non so bene ancora come chiudere poi ci penso. Poi qua possiamo mettere una crafting table ci sta quindi facciamoci la crafting table così l'abbiamo potremmo adibire questa zona a tipo una specie di magazzino delle merci. Allora andremo a mettere anche queste qua una qui e un'altra in corrispondenza qua forse meglio ora forse meglio più in qua dove abbiamo messo quell'altra ok così ci sta benissimo e abbiamo illuminato anche la stanza. Allora mettiamo un po' di ceste così diamo anche un pochino di colore questo si apre no perché sopra non c'è un mezzo blocco. Allora aspettate questa qua la chiudiamo così perché questa se la tolgo potrei mettere il mezzo blocco ma non va bene non va bene sopra va bene lasciamo aperto adesso così facciamo questa maniera qua e ne mettiamo altre tre da questa parte. Poi cerco di capire come poter aprire questa poi qua per esempio possiamo salire e fare uno scalino magari mezzo non intero questo qua non va bene quindi userei questo per poter arrivare qui dove c'è la finestra per guardare fuori. Qui non so ancora come chiudere però possiamo mettere altre due ceste una qui e una qui per dare l'idea che questo sia un magazzino poi possiamo fare altre di queste trapdoor vediamo un po' se viene un lavoro fatto bene. Se noi qua mettiamo le trapdoor così quindi una due e tre e poi chiudiamo sembrerà quasi un armadio questo interessante allora facciamo così due e tre e chiudiamo in questa maniera qua perfetto ci sta ci sta ragazzi sembrano anche dei sosteni non lo so. Allora stavo andando anche a cuocere prima del del vetro per fare un po' di pannelli per le finestre di questa di questa nave perché appunto sono state messe ne mettiamo uno qua e tra l'altro potrei anche fare così visto che ho questi potrei fare delle persiane. Allora come facciamo una e due sì ci sta da anche una nota di colore un po' diversa e poi anche da questa parte facciamo la stessa identica cosa quindi mettiamo il vetro non questo tech tech sei distratto a volte ok hai in mano delle cose ne usi altre allora andiamo a fare altre di queste. Vi ho detto che oggi abusavo di queste trapdoor in effetti sto abusandone però vengono veramente bene per fare le persiane a queste cose vedete sta diventando una casa anche queste le faremo con il vetro anzi le mettiamo subito e anche qui mettiamo le persiane assolutamente sì ok così abbiamo i due piani della casa. E dall'altra parte la stessa identica cosa allora andiamo di qua e facciamo così voilà ok poi appena ho le persiane vado a farle anche lì quindi la parte sotto invece dobbiamo fare la stanza a questo punto dove si può dormire con il letto non è tanto grande però forse riesco a gestirla. Ah qua se vedete ho sostituito questi blocchi per dare l'idea che qua si è un po' distrutta e non è proprio chiusa perfettamente ed ermeticamente la nave però ci sta ci sta. Bom qua magari possiamo anche fare una specie di sostegno non so di che se farlo con questo no forse lo farei con l'altro che si distingue un po' di più e magari sopra ci mettiamo qualcosa un pot magari con un fiore così abbiamo anche qui decorato con un po' di colore. Adesso vado a fare la stanza sotto e poi ci occupiamo della parte qua sopra allora sto vedendo se riesco ad allargare un po' qua mi sembra proprio di sì quindi ci sta forse farei un altro blocco aia però qua possiamo mettere dei mezzi eh qua possiamo mettere dei mezzi blocchi così rimane sopra il pavimento e qua possiamo forse togliere questa parte sotto. Sì esatto esatto perfetto mi piace una specie di nicchia qua ci sta perfettamente qua possiamo andare a mettere il letto quindi lo prendiamo direttamente da qua direi che verde non sta affatto male quindi andiamo a mettere il nostro letto qua. Ok tac perfetto anche se mi è venuta in mente una cosa faccio così perfetto oh oh non passo più aiuto non passo più ok vabbè dopo rimetto a posto e qua faccio così e faccio una specie di sponda del letto. Ci può stare ci può stare allora qua dobbiamo chiudere con questi qua sopra ok quindi qua chiudiamo così perfetto qua chiudiamo con i mezzi così rimane la nicchia e qua sotto andiamo a chiudere con questi dark qua. Ok abbiamo ripristinato la nostra nicchia però ci sta eh non è tanto grande ma va bene così secondo me adesso qua voglio craftarmi un blocco particolare che non abbiamo ancora fatto qua in questa versione. Il blocco che volevo andare a creare è il tavolo del cartografo una specie di crafting table che serve per poter modificare le mappe allora si fa così con il legno di birch e il legno questo qua di spruce eccolo qua ragazzi poi ho preparato una mappa della zona in modo da poter posizionare tutto quanto all'interno di questa stanza. Quindi andrei a togliere questo blocco qua e metterei questo del cartografo vedete carino c'è anche un mappamondo qua e qua sopra andare a mettere la nostra mappa quella che presumibilmente seguivano i pirati quando sono arrivati in questa zona purtroppo avendola fatta adesso si è aggiornata avrei dovuto farla quando non c'era ancora nulla e posizionarla in modo da non modificarla. Ma va bene così ragazzi ci accontentiamo magari l'andremo aggiornare ancora quando avremo finito tutto quanto perché qua si aggiungeranno un sacco di cose ok anche qui direi che ci siamo abbastanza magari andiamo ad aggiungere una luce perché qua c'è troppa poca luce e devo farla con il ferro. Quindi andiamo di qua andiamo a fare una lanterna quindi altre di queste iron nugget e facciamo così e mettiamo dentro una torcia e abbiamo la nostra lanterna che per ora potrei anche posizionare direi qua su questo tavolo. Ok anche la stanza tra virgolette del capitano è pronta ora devo andare a decorare più che altro la parte esterna ragazzi e a questo punto nascerà la magia perché come negli altri episodi vado a lavorare off camera per un bel po' e vi mostrerò il risultato finale che sarà qualcosa di spettacolare. Finalmente ci siamo dopo un bel po' di lavoro possiamo scoprire che cosa è successo ai pirati dopo essere naufragati in questa zona. Andiamo e avviciniamoci al relitto ragazzi ho fatto un lavorone ve lo dico eccoci qua il nostro relitto lo guardiamo innanzitutto da qua vedete c'è tutta la vegetazione che ha preso il sopravvento chiaramente sono qui da parecchio tempo i pirati guardate si capisce ovviamente che è una nave però è proprio spiaggiata spiaggiata ho messo tanta tanta vegetazione. Poi qua ho fatto un piccolo molo dove possiamo lasciare la nostra barca e scendere per visitare la parte che ho costruito allora qua c'è un piccolo orto ovviamente disordinato perché siamo sulla sabbia è difficile far crescere le piante sulla sabbia e qua c'è la nostra casa. Poi proseguendo ovviamente il simbolo piratesco arriviamo qua dove ho messo questo falò ci sono anche delle palme ne ho fatte tre una qua e altre due dall'altra parte e qui c'è l'ingresso della caverna che vorrei visitare. Guardate c'è anche un cancello chissà dove ci porterà lo scopriremo poi da questa parte ragazzi oltre alle teste di scheletro perché qui è una zona pericolosa e i pirati hanno dovuto affrontare anche dei pericoli quando sono arrivati qua prima di costruire il loro covo. Qua ci sono altre casse qui c'è un altro orto ma non è cresciuto più di tanto qui i pirati non sono tanto bravi a fare gli agricoltori anzi loro andavano a depredare le città e quindi rubavano tutto quanto. Qui c'è un altro di questi alberi e qua ci sono le mie casse che andrò a portare via poi come vi ho fatto vedere prima questa è la stanza tra virgolette del capitano con la mappa che adesso andrò ad aggiornare perché la togliamo e la andiamo subito a riguardare. Ecco così si vede tutta quanta la zona decorata vedete si vedono anche le palme e qua anche il molo quindi a posto e qua sopra ragazzi abbiamo fatto il magazzino quindi saliamo e andiamo a vedere questo magazzino. Ok anche questo l'avevamo completato prima ho messo solo questo pot con i fiori naturalmente qui c'è un anvil ci sono degli attrezzi in giro perché dobbiamo poterli utilizzare e qui dove una volta c'era il timone per far funzionare la nave e qui abbiamo un altro di questi tavoli che abbiamo fatto ho messo una fornace una specie di grill esterno perché questo è l'unico modo che i pirati avevano per poter cuocersi un po di pesce che andavano a pescare. E qui un'altra testa di questi scheletri ragazzi io ho fatto del mio meglio per rendere questa zona veramente particolare e spero che anche a voi piaccia e vi dia degli spunti per poter fare anche voi una zona piratesca nel mondo. Tra l'altro ho usato un trucchetto davvero carinissimo salve enderman per fare delle specie di rivoli d'acqua che entrano qua dove c'è la sabbia ho utilizzato le scale grazie appunto alla 1.13 e adesso si può anche mettere dentro l'acqua in questi punti qua quindi fare questi effetti molto particolari. E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio mi raccomando lasciate un like come sempre ragazzi ci tengo davvero tantissimo voglio vedere la vostra partecipazione sia con i like sia con i commenti a questa serie. Ricordatevi anche di condividere il video sui vostri social in modo che altre persone possano conoscere il canale e ovviamente la serie. Tra l'altro visto che ultimamente su youtube minecraft sta prendendo nuovamente piede e anche persone che non hanno mai fatto serie vanilla hanno iniziato a giocare a minecraft e la cosa mi lascia alquanto perplesso sinceramente. Comunque ragazzi a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!